Una buona spesa, quando spendiamo le risorse anche comunitarie dobbiamo farlo bene rispondendo con trasparenza rispetto a dati oggettivi. È chiaro che ogni euro speso deve essere speso bene per l'immagine della città e della regione e quindi siamo contenti di aver prodotto questo grande evento. Dobbiamo continuare così, quindi spendere quello che l'Europa ci dice di spendere per i grandi eventi, limitandoli chiaramente perché la crisi economica ci impone come abbiamo fatto con il comune di Napoli, con il sindaco, con il presidente della provincia, farne pochi e fatti a livello internazionale quindi con un grande circuito di immagine e di rilancio della nostra immagine.